La battaglia di Marco Pannella, che cosa diverte dal posto radicale oggi? Intanto Marco Pannella non ha lasciato eredi, ma ha lasciato un'eredità enorme e preziosissima che è l'eredità di un metodo, del metodo della non violenza e delle battaglie per i diritti che sono i diritti di tutti, i diritti civili, i diritti politici e le battaglie per la legalità. Queste sono fondamentali in un paese come il nostro, nel quale ancora non c'è la certezza del diritto, non c'è effettivamente democrazia in tutte le fasi della vita politica e questo ha ricadute pesantissime sulla vita dei cittadini. Di questo Marco Pannella era profondamente convinto e ce l'ha ripetuto sempre fino alla fine.